Aggravamento della misura restrittiva e trasferimento in carcere. È stata una telefonata ad incastrare Salvatore Liccardi, l'imprenditore 58enne, che lo scorso 25 maggio era finito ai domiciliari perché accusato di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti. Ieri mattina il giudice ha deciso il suo trasferimento al carcere di Poggio Reale con l'accusa di inquinamento delle prove. Non sapendo di essere intercettato, Liccardi ha telefonato ad un suo parente facendo riferimento alle indagini che lo avevano portato ai domiciliari, aggravando in questo modo la misura restrittiva nei suoi confronti. L'imprenditore è titolare dell'impresa Eusa e della ditta di trasporti che smaltiva in maniera irregolare rifiuti pericolosi riciclati e miscelati con la pozzolana per realizzare mattoni e cemento di bassa qualità da vendere per lavori di edilizia civile. Un traffico illecito di rifiuti per un ammontare di oltre 200.000 tonnellate smaltiti in buona parte presso due cave, la San Severino e la Neos, localizzate a Giuliano, Liccardi, figure inoltre nel capitolo dell'inchiesta riguardante i lavori di pulizia dell'alveo di via Crocillo, lavori che hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati anche due tecnici del comune di Quarto. Per loro l'accusa è di falso in atto pubblico per aver certificato la corretta esecuzione della bonifica. Inoltre, secondo gli inquirenti, ad effettuare i lavori sarebbe stata proprio la Eusa colpita da interdittiva antimafia piuttosto che la SOGIT, società incaricata dal comune.